Sì, sì, una bella avventura, un'avventura che continuerà, spero ancora per molto lungo tempo. Sono contento della serata, sono contento dei premiati, l'albo si arricchisce di alto spessore, ringrazio la giuria altamente qualificata, è stato un onore dare il premio a Luigi Locascio, Antonio Presti e Lautari, sono dei fiori all'occhiello della sicilianità, il premio si basa proprio su questa caratteristica fondamentale. Volevo ringraziare anche Francesco Bellomo con Claudio Tosoni che hanno condotto la serata con maestria e poi l'amministrazione comunale e la regione che ogni anno danno un buon contributo economico, un sostegno economico per la realizzazione della manifestazione. Grazie a tutti e ci rivediamo alla prossima edizione.